Musica Ragazzi, arriva la polizia! Musica Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere questi carinissimi mattoncini Mania con i quali costruiremo dei veicoli speciali della polizia La collezione è composta da sei veicoli speciali e li trovate in edicola All'interno della confezione trovate anche un'interessante rivista con tante curiosità Proviamo a costruire il primo veicolo Voi sapete che sono un appassionato di Lego E quindi mi sono divertito tantissimo Eccolo qua, il nostro camion d'assalto Guardate che carino Adesso proviamo a costruire il secondo veicolo Eccolo! Eccolo! Il veicolo blindato della polizia! Questo è proprio carino E ovviamente montiamo anche il terzo veicolo Eccoli i nostri tre veicoli della polizia Il terzo è un camion grigliato Approfitto per salutare chi aveva chiesto di essere salutato Allora, che ne dite? Vi piacciono a me tantissimo Spero che il video vi sia piaciuto Mettete un mi piace cecce Se vi è piaciuto E ciao ciao da Leonardo E mattoncini mania Ciao ciao!